Nella vita devi avere il coraggio di buttarti. E una volta che l'hai trovato, nessuno ti ferma più. Sempre a litigare per questi quattro peli. E io che cosa dovrei dire? Serve secondo bagno. E per te, che ami le sorprese. Ma dai, giallo zafferano e McDonald's. E sempre in ballo. Facci sì? Che modi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Oh, e come avrei potuto rifiutare? Questo correttore fa miracoli. Color papaya, praticamente impossibile da trovare. Io invece uso la cipria al posto del fardo. Ma non dirlo a nessuno, hai capito? È il mio piccolo segreto. E cosa mi dici di te? Qual è il tuo segreto di bellezza? Oh, il mio segreto di bellezza è... Beh, io... Io non dormo mai. Ma tu sei... Sei un genio! Quei segni sotto gli occhi mettono in risolto il tuo sorriso. Giustissimo! D'ora in avanti, non dormiremo mai più. E che altro? Beh, ecco, non prendo mai il sole e... Ma certo! Un pallore spettrale rende l'effetto del flash fotografico molto più naturale. Un vero genio! Cos'altro? Dici di più, ti prego! Significa che avete intenzione di fare tutto quello che vi dico? Ovviamente! Pendiamo dalle tue rinsecchite, ma fotogeniche labbra. Bene, allora... Questo potrebbe essere l'inizio di una grande amicizia. Ok, che cosa ne diti di una gara di selfie, eh? E come funziona? Pubblichiamo le foto online e vince chi prende più like. Una sfida mozzafiato. Ehi, che succede? Hai visto uno zombie? Peggio! Ho appena visto quei tre! Wow, sono così... Patetici! Non ho visto niente di così ma è stato in vita mia! E tu, Cripta? Sì, in effetti sono ridicoli. allesosed Kripta? Qu'è ovviamente? Sì? Vì. Sì? Sì? Sì?